Il treno metropolitano proveniente da Pozzuoni-Solpatara e diretto a Napoli-San Giovanni-Varra arriva e parte dal binario 4, ferma in tutte le stazioni. Attenzione, treno inolito al binario 4, allontanarsi dalla linea gialla. Sono due brave persone, ho visto già i pagamenti, lui mi ha detto guarda Michela se ti dispiazza magari la prossima giornata. Il treno inolito al binario 4, allontanarsi dalla linea gialla. Già locale a cantare la linea gialla. Contenzione fintona